Grazie di essere qui, non voglio ripetere parole già usate nelle altre sezioni. Oggi parliamo, e secondo me ci divertiremo, di politica industriale. Con Ugo Panizza, con Andrea Giudicin e con l'amico Fausto Panunzi. Io non voglio togliere spazio ai nostri relatori, perché secondo me quella della politica industriale italiana è una storia antica fatta di errori e di una sovrapproduzione di norme, di meccanismi incentivanti, di meccanismi più o meno di pianificazione. C'è una slide che avevo preparato ma che non vi farò vedere, dove io tre giorni fa ho fatto un'analisi per conto di un gruppo parlamentare che me l'ha chiesto, dei contenuti del decreto crescita, del famoso decreto crescita su cui è stata messa la fiducia, adesso arriva in Senato, vediamo che cosa succede. Allora fidatevi delle mie parole, poi naturalmente troverete questa roba quando la metteremo a disposizione sulla piattaforma per poter anche scaricare presentazioni, dati e slide che abbiamo utilizzato in questa giornata. E volutamente ho messo in un'unica slide tutti i provvedimenti che si possono trovare, diciamo così, tra virgolette di politica industriale, sul sito del MISE, in cui c'è un po' di tutto, dall'incentivo a determinati settori, dalla fiscalità di vantaggio per altri, dalla pianificazione di una serie di interventi, eccetera, eccetera, alle aree di crisi, alle famigerate aree di crisi, dove anche lì, aprendo tutti i giorni il giornale, trovi oggi Mercatone 1, domani trovi, che so io, l'ILVA, anzi l'ILVA spesso, io sto lavorando ad un problema che si porta avanti almeno dal 2012, che è l'area di crisi della Merloni, che nasce molto prima come crisi, ma che diventa, passa al MISE con una serie di provvedimenti e con 32 milioni di euro di denaro pubblico gettati, gettati in un water, ok, perché poi quello stabilimento è stato assegnato, poi chi l'aveva preso non aveva i soldi per portarlo avanti, cioè una storia, una follia continua di spreco di risorse, magari anche di relativamente di entità non esagerata, però sapete il complesso è quello che fa poi il totale, e dicevo, ho preso, ho fatto questa analisi del decreto sicurezza, e credetemi, immaginate la pagina intera in cui, scritto in carattere che sembra, che credo sia 10, quindi non si vede da lontano, ci sono tutte le misure che sono contenute oggi sul sito del Ministero, misure di cosiddetta politica industriale, tanto è vero che noi abbiamo voluto chiamare questa sezione un pochino, anzi abbastanza sarcasticamente, che l'unica politica industriale buona è quella morta, perché questa sovrapproduzione, di fatto, ottiene l'unico risultato, anzi uno dei risultati, è quello di castrare l'iniziativa imprenditoriale, renderla più difficile, con l'aspettativa o con la speranza di aiutare, in realtà poi produce effetti esattamente contrari a quelle che sono le aspettative. Allora, io lascio la parola a voi, poi cominciamo un pochino con gli interventi, un pochino di domande e risposte. Va bene, allora comincio io, e come diceva Costantino, la sessione si chiama l'unica politica di storia buona è quella morta, ma come spiacente di deludervi, ma la notizia della morte della politica industriale è alquanto esagerata, citando credo fosse Mark Twain, e quindi in realtà appunto quello che voglio fare adesso in questa presentazione è cercare di fornire qualche spunto, qualche possibilità di spiegazione sul perché la politica industriale è tutt'altro che morta. Cominciamo, la prendo alla larga, in realtà, malgrado quello che è la percezione comune, gran parte dei corsi introduttivi di economia si occupano del ruolo, dei fallimenti del mercato, perché il mercato non funziona, e tipicamente ci sono tre ragioni per cui non funziona, il potere di mercato, cioè abbiamo imprese che hanno monopolisti, lugopolisti, informazione asimmetrica, nel tempo, tutti quanti siete familiari col termine moral hazard, ad esempio, l'esternalità, e l'esternalità, il tipico esempio è l'inquinamento, quando un'impresa produce, ad esempio, produce CO2, e questo ha effetti negativi sugli altri agenti. In tutti questi casi, il mercato non funziona bene. Ok? E allora a questo punto, c'è lo spazio per l'intervento dello Stato nell'economia, se i mercati non funzionano bene, allora ci può essere lo spazio per un intervento pubblico. Molti dicono in realtà, ma oltre ai fallimenti del mercato, ci sono quelli dello Stato, se lo Stato interviene, fa ancora peggio, e quindi dicono, no, lo Stato non deve fare niente, ma non siamo così pessimisti, supponiamo che lo Stato possa fare qualcosa, rimane la domanda, che tipo di intervento? Qual è il perimetro ottimale dell'intervento dello Stato? Ad esempio, lo Stato deve solo regolamentare l'economia, ad esempio, se ci sono i monopoli naturali, allora c'è bisogno di uno Stato che regolamenta il settore. Oppure ci vuole lo Stato imprenditore, ad esempio, ha avuto grande successo questo libro di Mariana Mazzucato, che dice, lo Stato imprenditore genera domanda in alcuni settori, questo genera innovazione e che poi beneficiano tutta quanta la società. Delle partecipi tra pubblico e privato? Ecco, queste sono le domande importanti e non ci sono risposte univoche, ad esempio, prendiamo l'inquinamento, lo Stato deve solo tassare chi inquina o ad esempio deve dare sussidi verso l'innovazione per chi produce tecnologie pulite? Ecco, la politica industriale è una forma di intervento dello Stato nell'economia e qua c'è il documento sui principi generali della politica industriale della UE, del Parlamento europeo e dice alcune cose. La politica industriale dell'Unione ha lo scopo di rendere l'industria europea più competitiva in modo che possa mantenere il proprio ruolo di elemento motore per la crescita sostenibile e l'occupazione. E in particolare mira ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese eccetera eccetera. Quindi vedete che sono principi vaghi ad esempio a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese sembra quasi un invito alla collusione ma non è quello esattamente che vuol dire. Quindi vedete che sono principi piuttosto vaghi. Quali sono i fallimenti del mercato che tipicamente vengono invocati quando si parla di politica industriale? Ad esempio si dice le imprese medio piccole hanno difficoltà di accesso al credito e quindi questo svantaggia appunto queste imprese c'è bisogno di un sistema correttivo. L'impresa di ricerca e sviluppo crea estretà positiva se io ho un'invenzione di queste invenzioni possono beneficiare anche altre imprese e quindi in questo caso sappiamo che il mercato produce troppa poca innovazione. La mancanza di coordinazione tra imprese può impedire la formazione di distretti o di filieri industriali. Nel tempo e nei tempi più recenti a queste motivazioni classiche se sono aggiunte altre diciamo più contingenti la riduzione del peso del settore industriale nelle economie sviluppate la concorrenza di produttori di paesi in via di sviluppo le delocalizzazioni che hanno fatto sì che la quota dell'industria nel PIL si riducesse nel tempo e quindi che venisse sorgesse l'invocazione a qualche sistema di correzione. Naturalmente poi una volta anche identificate le ragioni e i motivi per intervenire ci sono due modi diversi due approcci molto diversi della politica industriale. C'è un approccio orizzontale vale a dire cerco di fare in modo che tutte le imprese tutti i settori possano essere più efficienti ad esempio un problema importante è quello del capitale umano investire nella scuola nell'università beneficia tutte quante le imprese perché mette a disposizione il capitale umano migliore semplificare la burocrazia potenziare le infrastrutture ovviamente immaginate la rete di trasporti quanto sia cruciale per un paese migliorare il sistema della giustizia ridurre il cuneo fiscale contributivo e sovvenzioni incentivi tax credit per l'attività di ricerca e sviluppo quindi questi sono elementi che beneficiano tutte quante le imprese c'è poi invece un altro approccio un'altra visione della politica industriale che è invece quella verticale vale a dire bisogna aiutare alcune imprese nella ritorica della politica sono le imprese medio piccole nella pratica sono tipicamente quelle grandi oppure alcuni settori alcuni settori diventano strategici per cui vanno aiutati e quindi c'è questo che si chiama winner picking bisogna prendere scegliere i vincitori bisogna puntare su alcuni settori su alcune imprese e aiutare potenziare meglio di più efficienti quel tipo di imprese e settori questo tipo di politica industriale è associato di solito a una visione diciamo pessimistica sul funzionamento dei mercati si dice che i mercati non funzionano bene e non si può correggere bisogna proprio intervenire direttamente lo stato deve svolgere l'attività economica e questa visione corporativa sovranista dell'economia in questi giorni in questi momenti sapete quanto sia popolare naturalmente questo tipo di ci sono esempi clamorosi di fallimenti di questa politica industriale verticale faccio un paio di esempi nel 2005 in Francia la commissione Beffat creò l'agenzia per l'innovazione industriale aveva 2 miliardi di euro di dotazione e doveva finanziare lo sviluppo da parte dello stato di programmi tecnologici industriali a lungo termine e lo stato doveva cofinanziare questi progetti nel gennaio 2006 il presidente Chirac annunciò che l'Europa si apprestava a raccogliere la sfida mondiale dei colossi americani Google e Yahoo con il lancio del motore di ricerca Quero io cerco in latino e 90 milioni di euro sono stati distanziati per Quero naturalmente Quero non ha mai visto la luce nel 31 dicembre 2013 l'avventura di Quero è finita ma naturalmente poteva l'Italia essere la domanda della Francia no ovviamente e nel 2006 l'allora ministro Bersani nel governo Prodi lanciò il progetto Industria 2015 con due obiettivi principali la riqualificazione e il rafforzamento delle piccole e medie imprese e l'individuazione di aree con forte impatto sullo sviluppo in cui realizzare i progetti di innovazione industriale e i primi cinque progetti furono le aree in cui investire furono l'efficienza energetica la mobilità sostenibile le scienze della vita eccetera eccetera quindi questi erano i settori che erano strategie su cui bisognava investire su cui lo Stato doveva intervenire anche qua sapete poi quel governo ebbe vita molto breve ebbe vita difficile dall'inizio quindi non sorprendentemente la corte dei conti nel 2014 diceva che le somme erogate erano circa 23 milioni che ammontavano al 3% di quelle impegnate e nessuna attuazione era stata data alle azioni connesse ai progetti quindi sostanzialmente un altro buco nell'acqua anche se naturalmente vi ricordo appunto il governo era evidentemente breve che era difficile fare qualunque cosa per quel governo mentre l'industria del 2015 falliva miseramente il settore biotech che era uno di quelli cruciali uno di quelli indicati come cruciali prosperava e c'erano tanti brevetti le imprese italiane le facevano molto bene e quindi questo ce lo ricorda Dario Di Vico il giudice del Corriere della Sera nel suo libro con Gianfranco Viesti e conclude Di Vico in definitiva è lo stesso assunto dello Stato intelligente e lungimirante contrapposto a forza di mercato ciniche e miope che non tiene davanti alla verifica dei fatti un altro esempio è quello dei distretti ci sono varie ragioni per cui i distretti possono rafforzare l'efficienza ma c'è bisogno di un coordinamento pubblico per creare un distretto e Tirol immagino sapete che Tirol è il primo Nobel per l'economia del 2014 nel suo libro quello divulgativo l'economia del bene comune scusate ho sbagliato l'errore il bene comune non pubblico c'è un errore nei miei lucidi ci ricorda che molti distretti sono nati spontaneamente ad esempio Tirol fa l'esempio del distretto della biotecnologia di Cambridge Massachusetts che nasce spontaneamente c'è questo Philip Sharp premio Nobel per la medicina nel 1993 che fonda la società nell'82 attrae ricercatori brillanti studenti brillanti che fanno le loro start up e da lì nasce il distretto biotech di Cambridge senza bisogno di un sussidi e di interventi pubblici ma allora perché la domanda di politica industriale rimane forte malgrado gli insuccessi una risposta secondo me troppo come dire diciamo semplice semplicistica è quella di dire beh in realtà questa domanda nasce perché ci sono delle percezioni sbagliate sull'economia l'opinione pubblica ha dei miti in testa e naturalmente da questi miti discende la domanda di politica industriale e c'è un libro di due economisti francesi Landier e Tesmar che hanno questo libricino che si chiama 10 idee che affondano la Francia che fermano la Francia essenzialmente e discutono alcuni di questi miti ad esempio un primo mito è una Francia senza industria va a diventare come Disneyland quindi l'idea che senza industria non c'è crescita non c'è occupazione non c'è lavoro che le cose insomma bisogna fare non bastano i servizi ci vogliono i beni senza la produzione industriale non si può veramente avere un'industria pospera e loro fanno vedere che in realtà gran parte della crescita viene dal settore dei servizi non viene dall'industria non solo più recentemente ma anche nei Trent Glories che sono i 30 anni della ricostruzione francese dopo la seconda guerra mondiale in realtà gran parte della crescita derivava dal settore dei servizi un altro mito appunto per salvare l'impiego quindi l'occupazione bisogna salvare l'industria quindi se l'industria si restringe tutta quanta l'economia seguirà e sempre Landiette e Smart fanno vedere come i dati non supportano questa conclusione in Francia altri miti c'è bisogno di uno stato stratega che ci dica quali sono le direzioni di sviluppo e naturalmente in questi casi questa parola strategico che viene spesso invocata non è mai ben definita che cos'è strategico a un certo momento nel libro si discute come se l'industria del pollo sia strategica per la Francia produrre polli era diventato il dibattito è fondamentale che la Francia sussidi il settore che produce appunto il pollame e quindi naturalmente il rischio di cattura politica è enorme perché i produttori di polli vorranno avere i sussidi e faranno pressione per averli infine un altro mito non possiamo più lasciare i mercati perché i mercati hanno un orizzonte di breve termine vogliono avere subito risultati mentre invece abbiamo bisogno di capitale paziente il fondo strategico italiano oggi si chiama CDP equity nasce nel 2012 con l'obiettivo di fornire capitale paziente a società quotate o che hanno l'obiettivo di quotarsi nel medio termine la CDP è quella che deve dare un miliardo di euro al governo oggi esatto subito quindi questo vi dice appunto quanto siano appunto pazienti e questo vi dice in realtà il problema è l'opposto abbiamo esempi di imprese come Amazon che avevano la quotazione che saliva malgrado non avessero profitti per tanti tanti anni quindi in realtà l'impazienza dei mercati che sembrano fin troppo pazienti verso Amazon ma questo non è non possiamo farci bastare la risposta la politica industriale sopravvive perché abbiamo opinioni sbagliate sull'economia ci sono ragioni più profonde ad esempio Aguillon Boulanger e Cohen dicono in realtà abbiamo nuove ragioni per la politica industriale una è il climate change c'è bisogno di avere nuove tecnologie pulite e c'è un problema le innovazioni sono path dependent è più facile ottenere innovazioni in settori che conosciamo già e quindi è più facile ottenere innovazioni in tecnologie sporche e quindi se vogliamo che le imprese cominciano a fare innovazioni in settori pulite occorre dare sussidi all'innovazione c'è un problema che riguarda il mercato del credito ne abbiamo parlato prima le imprese innovative tipicamente hanno asset meno tangibili non hanno il capannone il macchinario le cose fisiche da dare come collaterale e in questo caso se i mercati funzionano male se non c'è questo tipo di collaterale non finanziano ma noi vogliamo che quelle imprese siano finanziate e allora di nuovo c'è un problema di malfunzionamento del mercato infine l'ultima ragione che ci piaccia o meno e questa è una tesi che Dani Rodi che l'economista di Harvard ha reso popolare è che in alcuni paesi come la Cina le politiche industriali vengono fatte ci sono e sembrano funzionare e questo fatto ha delle conseguenze per tutte e quante le nostre imprese quindi se un'impresa compete contro un'impresa cinese rischia di non avere un appalto semplicemente perché lo Stato cinese può subvenzionare l'impresa cinese e quindi non c'è modo per l'impresa italiana o europea per competere contro quella cinese e quindi noi rischiamo di creare una disoccupazione in Europa perché lo Stato cinese sostiene le loro imprese e noi no quindi questo è un problema dobbiamo correre il rischio di avere perdite e dispersione di patrimonio tecnologico o occorre rispondere in modo protezionistico a nostra volta quindi questa è la domanda che viene fatta e Aghione e gli altri dicono il dibattito non deve essere non deve essere a favore o contro la politica industriale che verrà fatta in ogni caso se non da noi da altri allora la domanda deve essere appunto in un formato o in un'altra da un altro paese da molti paesi globalmente e quindi dobbiamo prenderne atto la politica industriale viene fatta e occorre adattarsi a questo ho quasi finito ci sono questo vi dice appunto quale raccomandazioni ci sono qua Tirol dice ok se dobbiamo farla quali sono le raccomandazioni quali sono alcuni punti fondamentali per farla bene ad esempio cercare di fare in modo che sia neutrale in termini di concorrenza che non distorca la concorrenza questa è una cosa fondamentale un'altra cosa fondamentale è fare una valutazione esposta dei risultati ha funzionato non ha funzionato chiediamocelo valutiamo andiamo a vedere chiedere sempre una compartecipazione nel settore privato perché è facile giocare con i soldi degli altri non vorrei citare ricucci ma insomma l'idea è proprio quella è facile giocare con ricucci ovviamente i soldi ma con i soldi altrui quindi questa è la cosa fondamentale vengo alla fine gli stati in questi giorni sono chiamati come in ogni momento di crisi a far fronte a una domanda di assicurazione di protezione ne parlavano anche stamattina nell'altra sessione e in un mondo ideale l'efficienza e l'assicurazione dovrebbero andare a essere separati produco e poi ridistribuisco in un mondo ideale funziona così quindi massimizo l'efficienza e poi ridistribuisco la torta purtroppo il modo in cui divido la torta ha effetti su quanto grande è la torta la distribuzione e l'efficienza non è possibile separarli completamente questo è purtroppo così nel mondo la politica industriale viene presentata come uno strumento di crescita spesso però è anche un meccanismo di garanzia e di protezione e a volte la maggior parte dei casi essa consiste in Italia nel cercare di salvare imprese in crisi e credo che poi Andrea ci darà un esempio di questo quindi questo è il punto la politica industriale viene presentata come un modo per crescere ma spesso è anche e soprattutto un modo per proteggere per assicurare e non c'è niente di male nel ricercare la protezione e non c'è niente di male anche se ha costi di efficienza non c'è niente di male questo è importante anche per gli economisti accettarlo non c'è niente di male non c'è nulla di scandaloso che le collettività vogliano siano a favore di una maggiore assicurazione di una maggiore protezione anche se questa è costosa in termini di efficienza le collettività possono voltare avere opinioni diverse possono cambiare opinione nel tempo ma è importante è che questo trade off sia chiaro agli elettori cittadini che siano informati su qual è la natura di questo trade off che non è possibile avere tutto che non esistono soluzioni win-win come invece ci vengono totalmente prospettate ed è per questo che l'informazione economica è fondamentale ed è per questo che questo tipo di iniziativa e tutto quanto lo sforzo che Costantino e gli altri stanno facendo in questo momento è particolarmente importante in questo periodo e io ho finito no Fausto quando no no dallo pure a Duga no quando hai ricordato la meravigliosa esperienza di quello io francamente non me la ricordavo però il nome mi diceva qualcosa mi è venuto subito in mente che noi abbiamo a Roma un ministro dello sviluppo economico che vuole lanciare e vai Netflix italiana cioè credo che sia l'esempio più plastico e anche più surreale sotto certi aspetti di quello che significa vivere in un paese come questo dove si tirano fuori magari per come dire solleticare chissà quali pulsioni da parte di un elettorato che da qualche parte evidentemente c'è certe follie totali non vengono imparate le lezioni esatto 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 ok la parola adesso Dugo ok ho visto che Fausto ho concluso con una citazione di Marx quando quando gli organizzatori mi hanno invitato ho dato il titolo provocativo della della sessione scrissi a Michele e dissi ok tirerò fuori il mio lato comunista e poi la settimana dopo sono andato in Cina allora sono andato a visitare la scuola di marxismo dell'università di di Pechino ho parlato un po' con con Fausto e ci siamo coordinati un po' e vorrei espandere su alcune delle cose che ha detto Fausto prima cosa questo è un argomento molto importante su cui sappiamo molto poco perché gran parte di quello che sappiamo è basato un po' su aneddoti nel senso che se tu parli con una persona a cui non piace la politica industriale ti tira fuori 3000 esempi di porcherie se tu parli con una persona a cui piace la politica industriale inizia a dirti guarda la Corea del Sud guarda la Cina guarda qua guarda qua guarda su guarda giù e infatti se uno guarda sulle riviste accademiche più prestigiose ci sono un paio di paper scritti negli anni 80 da Murphy Schleifer e Wisni gli economisti bravissimi paper teorici che poi dice ok ci ho fatto un modellino non ho la minima idea e non c'era non c'è quasi nessuna ricerca empirica seria le cose stanno cambiando lì ho messo un po' di papers di economisti bravissimi che stanno facendo ricerca empirica seria sull'industria policy se magari organizziamo il prossimo anno sapremo di più è una cosa che stiamo imparlando molto e addirittura il fondo monetario internazionale che è sempre stato il bastione del neoliberismo chiamalo come vuoi due economisti del fondo monetario internazionale hanno appena scritto questo paper sul ritorno all'industrial policy devo ammettere che ho visto questo paper l'ho mandato Costantino Costantino l'ha letto ma io non l'ho letto quindi non ho la minima idea di quello che dicano vabbè questo per dire che questo è un argomento importante ma volevo passare il modo in cui io penso alla politica industriale appunto voglio dire un paio di cose su questo quando io penso alla politica industriale non penso specificamente all'industria una politica penso a quella che adesso il nome che va di moda adesso è le politiche per lo sviluppo produttivo che può essere industria può essere agricoltura può essere i servizi può essere qualsiasi cosa e per espandere un po' su quello che ha detto Fausto uno può pensare a due tipi di politiche politiche orizzontali che sono politiche che beneficiano tutta l'economia o fanno dei danni a tutta l'economia chi lo sa e politiche verticali che invece si concentrano su settori specifici ma a parte queste due distinzioni che sono state messe in evidenza da Fausto si può anche pensare come le implemento queste cose posso implementarle con input pubblici nel senso di nuovo non faccio un target a un'industria un'azienda specifica un settore specifico oppure posso farle intervenendo direttamente in un mercato e di nuovo queste sono le cose che ha detto Fausto se pensiamo a politiche industriali fatti con input pubblici possiamo pensare a come migliorare il climate business come l'ambiente per le imprese oppure magari fare politiche per le grandi imprese o magari no quando uno pensa a politiche più verticali a me mi sembra sempre la TAV la TAV io la vedo come una politica industriale nel senso che se lo facciamo o non facciamo questi treni avrà delle ripercussioni sui settori che si svilupperanno dove arrivano questi treni recentemente un membro del governo ha detto che vuole dare incentivi per studiare storia dell'arte magari dovremmo dare incentivi per studiare ingegneria non lo so chi lo sa però di nuovo queste cose e poi chiaramente qua questa è la casella più pericolosa è la casella dove dai soldi all'Italia alla Merloni a queste cose qua che dobbiamo fare attenzione o a settore a bassissimo valore aggiunto per l'agricoltura uno dei cavalli di battaglia di questo governo è quello che il settore che deve essere incentivato è l'agricoltura il più basso in assoluto valore aggiunto per l'agricoltura e questo non è solo l'Italia se uno guarda ad esempio se guarda cosa fanno le banche nazionali di sviluppo in tutto il mondo le banche nazionali di sviluppo danno soldi all'agricoltura e alle piccole e medie imprese che normalmente non sono i settori a più alta produttività sono andato a leggere il dizionario a Milanese mio padre è lombardo però non ho mai imparato imparare lombardo questo vuol dire qualcosa del tipo non fare interventi pasticcere fai il tuo mestiere non fare interventi su cui non sai non hai la minima idea l'idea è che la politica industriale non è morta ma da usare con cautela e per riprendere l'articolo di Danny Rodrik di cui Fausto parlava quell'articolo si chiama doom to choose a un certo punto devi fare una scelta di nuovo pensiamo di nuovo alla TAV la TAV o la fai o non la fai è una scelta che bisogna fare giusto qualsiasi uno pensi e questa scelta avrà delle implicazioni per quello che succede nell'industria dell'economia italiana ma nel fare questa scelta bisognerebbe capire qual è il vincolo vero che limita lo sviluppo economico scusate per questo miscuglio di inglese italiano qual è il vincolo che limita lo sviluppo economico sappiamo come individuare questo riusciamo a capire se ci sono unintended consequences e possiamo proteggerci dalle dalle government culture qua ho fatto un salto questo voglio fare un esempio di nuovo se guardate le politiche industriali fatte da la maggior parte dei paesi Italia inclusa ci sono delle politiche per favorire le piccole e medie imprese e c'è un motivo teorico ben chiaro questo l'ha detto Fausto i mercati del credito non funzionano bene le piccole e medie imprese tendono a avere bilanci più opachi delle grandi imprese c'è un problema della simmetria di informazione e quindi il fallimento di mercato è ben chiaro c'è delle motivazioni teoriche e quindi facciamo interventi per dar credito ad esempio a queste piccole e medie imprese la foto di quello là è Yogi Berra era un giocatore di baseball americano che diceva cose che sembravano ovvie ma molto deep ad esempio una delle cose che lui ha detto in teoria la teoria e la pratica sono la stessa cosa in pratica non lo sono quindi sappiamo come andare dalla teoria e la pratica e di nuovo se uno pensa qual è uno dei problemi che ha l'Italia magari non è ah ho capito qual è il problema ci ho messo un po' in pratica a volte non è il primo problema che ti arriva in faccia non è il problema principale a me piace molto questa analogia del barile questo pensate questo è un barile che deve contenere del liquido e il vostro obiettivo è mettere la maggiore quantità di liquido possibile in questo barile allora dice qual è il problema principale qual è il problema che limita la quantità di liquido che io posso mettere in questo barile è questo pezzo di legno qua giusto perché quando l'acqua arriva qua l'acqua esce quindi io se voglio intervenire per aumentare la quantità di liquido in questo barile devo allungare questo pezzo di legno e se lo porto alto quanto questo riesco a arrivare al livello però chissà magari questo pezzo di legno è debole è mezzo marcio e come aumento come faccio questo più la pressione dell'acqua diventa più forte e il barile esplode non riesco a tenere più acqua dentro questo è il modo migliore che io ho mai usato per spiegare il concetto di second best c'è una distorsione che non si vede e che se tu ripari la prima distorsione vai a finire il peggiore quindi e questo è molto importante se vuole fare la politica industriale devi capire non devi solo guardare ah c'è credit constraint per piccole e medie imprese devi capire dove va a finire e di nuovo se uno pensa all'Italia qual è uno dei grossi problemi d'Italia questo l'ho scaricato prima questa è la la classifica dei paesi per numero di grandi imprese delle imprese che sono nella lista di fortune 500 l'Italia è l'unico paese del G7 che non è lì difatti il paese numero 7 8 9 10 sono paesi che hanno economie molto più piccole dell'economia italiana la Svizzera un terzo dell'economia italiana l'Olanda meno della metà e poi anche se uno guarda le nuove aziende italiane che sono in questa lista sono praticamente aziende che sono nate come aziende statali e quindi è strano che ci sia in un certo senso a noi mancano grosse imprese però c'è tanto focus sulle piccole imprese non dico che l'Italia che lo Stato si debba mettere a creare un altro Eni però magari questa non è la prima cosa a cui uno pensa e qua finisco con il pasticcero non fare il tuo mestiere allora grazie Ugo due brevissime veramente brevi riflessioni allora la prima ti hai citato la Tav noi abbiamo fatto due video uno dei quali con Andrea partiamo dalla discussione Tav e la nostra come dire il nostro intervento divulgativo diciamo così in realtà abbiamo anche provato a invitare alcuni della commissione non sono venuti la commissione analisi benefici strano che non siano venuti abbiamo chiuso il discorso in questo modo che penso che sia radicale penso sia condiviso in questa in questa aula su certe opere l'analisi costi benefici semplicemente non si fa non importa che venga fuori con un dato positivo o un dato negativo sono opere così importanti qualcuno direbbe strategiche ammesso che poi si individui qual è il concetto di strategico che non si fa un'analisi costi benefici qualcuno avrebbe mai pensato di fare un'analisi costi benefici di internet penso di no è un cambio epocale di un modo di intendere di lavorare di relazionarsi eccetera non si fa l'analisi costi benefici la seconda cosa anzi no questa forse la dico dopo adesso vorrei lasciare la parola ad Andrea che ci racconta alcune delle best practice italiane mi raccomando perfetto innanzitutto grazie mille per l'invito best practice devo dire che nasco in un settore fortunato che principalmente è quello dei trasporti quindi è nato molto sfigato di suo come ben sappiamo in Italia purtroppo perché gli esempi come vedrete ce ne sono tanti e sicuramente non molto diciamo ben riusciti politica dei trasporti e io parto sempre con due esempi che purtroppo ne parlo spesso e sono più di dieci anni quindi ancora quando ero uno studente di dottorato già mi occupavo di Alitalia mi divertivo col Bruno Leoni anche a parlare di Alitalia beh Alitalia perde tanto perde tanto si parla di circa poi dovremmo vedere circa mezzo miliardo di euro l'anno l'anno scorso ha perso circa mezzo miliardo di euro l'ultima riga di bilancio è chiaro che poi i commissari hanno sempre detto noi perdiamo 300 milioni di euro sì ma quello è l'ebit non è l'ultima riga di bilancio che è una cosa ben diversa e se andiamo a vedere l'ebit è chiaro che all'Italia circa meno 13% di ebit quando tutte le compagnie a parte Eurowings hanno tutti gli ebit positivi dal 20% di Ryanair al 12% di Jag ad esempio che è British Airways più Iberia più Whaling più Aer Lingus passare Air France che fra tutte è quella che è messa peggio tra parentesi che ha un ebit di 1,4 Air France KLM invece va un po' meglio perché c'è KLM che riesce diciamo a salvare un po' Air France beh detto questo all'Italia quanto costa? quanto ci sta costando ad oggi? beh un milione virgola 4 al giorno al giorno cioè quando noi sentiamo le politiche eh dobbiamo trovare 3 milioni o addirittura dobbiamo tagliare i costi dei parlamentari che sono inutili di qualche decina di milioni beh ricordiamoci che qua si sta parlando di mezzo miliardo l'anno e poi c'è un'altra azienda solo una per farne un altro nome ATAC quanti di voi conoscono hanno provato a prendere ATAC? quanti di voi sono soddisfatti del servizio ATAC? se alzate la mano vi ha no no io sono sopravvissuto settimana scorsa sono sopravvissuto sudato ma sono sopravvissuto io ogni volta che esco è come fare una sauna gratis quindi nell'euro e mezzo del biglietto c'è servizio incluso che è il servizio sauna beh questo servizio sauna costa due milioni di euro al giorno è chiaro che è un costo che comprende anche diciamo il contributo per il servizio quindi è chiaro vogliamo avere un determinato servizio non è solo la perdita bensì è anche la contribuzione quella che viene chiamata contribuzione è chiaro che però qua stiamo parlando di un'azienda che sono più di 700 milioni di euro l'anno 700 milioni di euro l'anno che il contribuente romano e non solo perché le mette anche il contribuente italiano come ben sappiamo dal caso Roma del debito di Roma e via dicendo devono mettere ogni anno e questo è solo ATAC poi abbiamo ANM giù a Napoli ma abbiamo tanti casi tanti casi la stessa ATM è sicuramente molto più efficiente ma non costa pochissimo se andremo a vedere qualche dato rispetto ad altri casi europei ma tutto questo ci fa capire che in questo settore si buttano miliardi di euro ma miliardi di euro ogni singolo anno e andando un po' scusate a me piace sparare i numeri però credo che proprio con i numeri si riesca a dimostrare meglio quali sono i problemi beh se andiamo a vedere i costi per veicolo chilometro che significa quanto costa far viaggiare un chilometro una singola vettura una vettura che può essere un autobus può essere una metro e via dicendo beh se andiamo a vedere ATAC siamo a dei costi per veicolo chilometro circa il 50% superiore all'ATM e ATM che è un buon caso ma non è il miglior caso ha dei costi circa doppi rispetto ai migliori casi europei laddove si è deregolamentato il mercato ok quindi di fatto anche ATM è sicuramente efficiente ma non è così efficiente come in altri casi altra cosa interessante ATM come forse qualcuno di voi sa è andata a Copenaghen ha vinto la gara per fare il servizio della metro di Copenaghen e ci fa anche un utile cosa ben diversa ad esempio tornando a parlare di politica industriale dell'utilizzo dei soldi del taxpayer del contribuente è FS Ferrovie dello Stato ha comprato la parte tedesca netinera e in quell'azienda ci sta perdendo soldi quindi con i soldi del contribuente italiano è andata in Germania per perdere soldi e sussidiare il contribuente tedesco che secondo me è la cosa più assurda che possa esistere perlomeno ATM ci fa gli utili su Copenaghen quindi almeno questo è positivo detto anche questo ATAC beh quando io sento la giunta raggi perché io ho partecipato mi sono speso per il referendum in maniera gratuita con i radicali che poi hanno portato avanti questa battaglia Riccardo Maggi in particolare quando la raggi diceva eh ma noi stiamo migliorando l'azienda andiamo a vedere 2016-2017 i costi per vettura a chilometro esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni che possono cambiare ogni anno chiaramente dipende quanto fatte di ammortamento quanto fatte di svalutazione sono andate crescendo nell'ultimo biennio quindi l'azienda è sempre meno efficiente e cerchiamo di capire perché è sempre meno efficiente beh è sempre meno efficiente perché ATAC risponde a una logica che non è quella dell'efficienza ma è una logica che è quella di dare posti di lavoro sapete quante persone lavorano per ATAC circa 11.500 sapete qual è il tasso di assenteismo in ATAC circa il 12,5% circa 1.500 persone ogni mattina per un motivo valido o non valido non si presenta al lavoro 1.500 persone ora il servizio di ATAC il servizio in termini di vetture e chilometro di ATAC è ormai più piccolo di quello di Milano di ATM ma ha circa 2.500 persone in più quindi anche se quelle 1.500 persone non fossero nell'azienda in questo momento l'azienda probabilmente con un tasso di efficienza come quello di Milano che ripeto non è il miglior caso potrebbe potrebbe offrire quel determinato servizio beh andiamo su un altro caso vado velocemente se no poi vi faccio intrestire troppo Alitalia Alitalia ha perso l'anno scorso mezzo miliardo di euro qual è la strategicità di questa azienda perché abbiamo sentito parlare di la politica decide che cosa è strategico beh Alitalia è strategica beh punto di domanda secondo me no andiamo a vedere i dati a parte le perdite che come dicevo circa anche se il dato ufficiale da perdita netta ancora non esiste siamo intorno a mezzo miliardo di euro e nel primo trimestre di quest'anno ha perso altri quasi 200 milioni di euro beh se andiamo a vedere la quota di mercato dei passeggeri internazionali da e per l'Italia che potrebbe essere la politica io ho sentito dire sia Salvini ma anche Di Maio hanno detto beh l'Italia serve a connettere l'Italia e il mondo beh andiamo a vedere la quota di mercato quanti sono i passeggeri da e per l'Italia quindi sia internazionali che italiani che vanno all'estero via l'Italia beh sono l'8% è la quinta compagnia in Italia è la quinta compagnia in Italia dietro Ryanair Easyjet il gruppo Yag il gruppo Lufthansa e poi c'è l'Italia è strategico portare l'8% dei passeggeri? è strategico? beh è così strategico che ci abbiamo messo 900 milioni di euro come ben sapete con il famoso prestito ponte che non verrà mai ridato indietro ed è così strategico che la compagnia continua a perdere e si sta parlando ancora una volta di rinazionalizzare la compagnia e trovare un qualunque partner basta che sia pubblico qua siamo ormai arrivati a Ferrovidello Stato o allo stesso MEF che devono metterci i soldi per salvare questa azienda altre politiche industriali beh abbiamo parlato stamattina di rifiuti infatti questa slide l'ho aggiunta dopo che abbiamo discusso stamattina con Costantino e con Carlo Stagnaro beh parliamo di rifiuti ma qual è l'efficienza di alcune aziende perché in alcune in alcuni casi si riescono a raggiungere più efficienze o per quali motivi si continua a mantenere questa inefficienza io vi porto i dati di Ama a Roma perché me ne sono occupato un po' è l'esempio del Friuli Venezia Giulia è chiaro che fare un confronto diretto come dicevo anche stamattina non è immediato cioè ci sono sicuramente altre variabili da tenere in considerazione ma il costo a Roma per Ama è di circa 400 euro per tonnellata rispetto ai 240 euro nel Friuli Venezia Giulia dipende anche dal mix come dal mix sia di 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 scariche che puoi o non puoi avere puoi avere inceneritori vedi 100 distanza dagli impianti tenendo in considerazione anche tutti questi fattori abbiamo fatto una ricerca qua all'università Milano Bicocca dove insegno e comunque viene fuori che Ama ha un'inefficienza di qualche centinaia di milioni di euro all'anno anche qua altri soldi buttati qual è la strategicità di mantenere 11.000 dipendenti in maniera inefficiente evidentemente alla raggi avere 11.000 dipendenti di Atac avere 11.000 dipendenti di Ama è un buon bacino elettorale e ben sappiamo e questa è la strategicità altra cosa perché abbiamo visto cassa depositi e prestiti beh qua abbiamo un altro bellissimo investimento di cassa depositi e prestiti al di fuori poi delle aziende già fallite dove ci mettono i soldi perché probabilmente è amico di qualcuno se andiamo a vedere cassa depositi e prestiti è diventato un buon azionista che addirittura ha modificato la partita in corso fra Iliot e Vivandi forse qualcuno di voi si ricorda di questo è andato a favore di Iliot portando quel suo famoso 5% dei voti e grazie a questo grande investimento di cassa depositi e prestiti che a noi contribuenti ancora non è a libro questa perdita ma ad oggi abbiamo perso circa 300 milioni di euro ancora non lo vediamo sui conti perché chiaramente finché non vende l'azione non c'è la perdita vera e propria però è una perdita potenziale che ad oggi siamo intorno ai 300 milioni di euro qual è la strategicità che lo Stato italiano si schiere a favore di un fondo americano rispetto a un altro azionista francese a me poco importa ma perché deve essere lo Stato italiano che deve decidere in quale cavolo di direzione deve andare questa partita perché devo utilizzare i miei soldi di contribuente beh tutto questo ci fa ben capire il perché l'Italia è un paese secondo me sull'orlo del fallimento come voi purtroppo ci ricordate con le vostre annualisi puntuali ogni settimana e su perché in Italia anche tutte le politiche industriali sono sempre state veramente assurde veramente assurde ricordiamoci delle politiche del sud Italia cosa hanno portato anni e anni di politiche di investimento del sud Italia beh hanno portato probabilmente a questo dato a questo dato che il GDP è la PIL pro capite a parità di potere d'acquisto fatto 100 quello europeo dell'Europa a 28 paesi beh il sud Italia ormai a potere di potere d'acquisto questi sono dati euro scusate che non ho messo a un GDP a un PIL a parità di potere d'acquisto più basso della Romania della Lettonia della Grecia dell'Ungheria della Polonia della Lituania dell'Estonia cioè siamo un paese che dopo anni e anni di politiche industriali fatte probabilmente per abbiamo tanti casi anche di Ilva diciamolo dopo fiumi di denaro che sono arrivati al sud beh come per l'Italia continuano ad arrivare i fiumi di denaro io ho fatto la stima di circa 10 miliardi di euro dal 2008 ad oggi cosa ha portato ad avere una compagnia che trasporta l'8% dei passeggeri una compagnia che è sempre più piccola che ha il 2% della quota di mercato europea 2% cioè è residuale detto questo tutte queste grandi politiche dello Stato italiano che evidentemente rispondono a logiche che sono ben diverse rispetto all'efficienza hanno portato a risultati veramente a mio parere scadenti allora la grande domanda è ma davvero allora l'unica politica industriale buona è quella morta? Grazie che paese meraviglioso scusate per l'ondata di ottimismo che vi ho portato oggi pomeriggio però la seconda cosa che stavo per dire è infatti è un anno bellissimo qui sono decenni bellissimi che stiamo vivendo la cosa che volevo dire prima poi poiché sapevo conoscevo l'intervento di Andrea e quindi me la sono tenuta da parte un altro degli slogan che sono stati lanciati uno di quelli che hanno fatto più rumore sul canale YouTube e che non è soltanto rumore è anche moto di rabbia di ribellione ma come si permettono questi qua è lo slogan lanciato da Michele che io poi ho riportato in alcuni ambiti situazioni in cui sono stato chiamato a parlare ed è quello legato alle piccole imprese a chi ci diceva ci chiedeva ma come si fa a favorire le piccole imprese io risposi in modo trancian le si lascia morire che non significa che vogliamo la morte dell'artigiano del barbiere eccetera significa semplicemente che esistono delle dinamiche di mercato che se vengono lasciate libere premiano l'innovazione l'aggregazione l'investimento di capitale ragioniamo su quello quello che dovrebbe fare uno stato serio è ragionare su quello non salvare anche l'insalvabile nella sezione che c'è stata prima su banca e finanza giustamente si è ricordato che ci sono le banche a dispetto di tutte le normative che sono state emanate dall'ACB dei criteri emanati dall'Ebe eccetera sembra che in Italia siano una cosa diversa perché l'applicazione di quella normativa in Italia diventa diversa e diventa diversa per le banche dove ci sono gli interventi sulle banche che dovrebbero veramente essere lasciate messe in risoluzione no? perché uno dei criteri è quello che la banca per ottenere l'intervento pubblico deve essere una banca di carattere sistemico in Italia avviene più o meno la stessa cosa anche negli altri ambiti per tanti anni si è parlato si è inventato lo slogan too big to fail in Italia si chiama too small to fail in Italia non può fallire nessuno le dinamiche di mercato non vengono lasciate libere di fare pulizia di chi è inefficiente vengono risorse pubbliche gettiamo una quantità enorme di denaro pubblico che ricordiamoci sempre Andrea dice taxpayer è la fiscalità che sostiene questi zombie evidenti perché lo Stato deve necessariamente intervenire nell'area di crisi grande piuttosto che in Italia piuttosto che nell'area di crisi medio grande dove ci sono mi dispiace perché non sono assassino di salariati però diventa non fallibile anche l'azienda che ha 200 posti di lavoro ed è una cosa che non è tollerabile cioè c'è questo interventismo da parte del settore pubblico dello Stato nelle sue varie diramazioni che è veramente intollerabile perché poi non premia l'efficienza non premia chi innova ha degli effetti distorsivi su chi invece quotidianamente fa la propria fatica per migliorare la propria azienda la propria struttura il proprio personale eccetera ci vorrebbe uno Stato che intervenisse invece molto sulla formazione cosa che invece non fa ma questo è un altro capitolo che poi affronteremo ad ottobre quando vorremmo ritagliarci una buona parte di quel di quel meeting che stiamo andando a organizzare su una idea di riforma mi viene da dire violenta del sistema formativo italiano ci sono domande? Sì io brevemente volevo fare da veloce a contraltare ecco più o meno oggi è stato fatto non dico come sparare sulla croce rossa quando si parla di Alitalia e Datac forse addirittura arriviamo al vilipendio di cadavere però ecco dall'altra parte è stato interessante quando Costantino ha detto che non possiamo valutare l'analisi di questi benefici di internet però si è dimenticato di dire che internet è stata sviluppata con i fondi pubblici del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti quanto è disruptive il progetto Manhattan la scoperta dell'energia nucleare quella cosa lì è stata fatta con soldi pubblici quando io prendo in mano questo e ho dentro un GPS un'intelligenza artificiale internet google tutte queste cose qua sono state fatte con ricerca soldi pubblici ecco di questo io non ho sentito tanto parlare volevo fare un ultimo esempio nel 2009 il governo degli Stati Uniti finanzia mezzo miliardo di euro lo investe in Tesla e mezzo miliardo di euro lo investe in Solindra ora Solindra qua nessuno sa che cos'è perché Solindra è una società che ha fallito due anni dopo e nessuno ne ha mai sentito parlare Tesla immagino la conoscete tutti i profitti che poi Tesla farà più avanti ovviamente non saranno devoluti ai taxpayer americani ma rimarranno profitti privati ecco io di questa questione non ho sentito parlare velocissimamente il mio intervento di prima non era non tendeva a dire che il pubblico non deve intervenire attenzione ci sono settori dove il pubblico deve intervenire l'alta velocità visto che siamo abbiamo trattata è un tema dove c'è un fortissimo intervento pubblico il punto quello che noi sosteniamo è che in certi ambiti non c'è analisi costi benefici che tenga almeno per due ragioni ma molte di più probabilmente ma almeno per due ragioni la prima è che i risultati tu sai che li otterrai in un arco di tempo che nella migliore delle ipotesi è lungo a volte addirittura non misurabile e la seconda ragione è che i benefici non li conosci cioè non hai i benefici attesi perché rappresenta quel tipo di opera quel tipo di intervento un cambio di paradigma di abitudini di nel caso della tab di spostamento delle merci cioè non sappiamo quando fai l'analisi costi benefici sulla tab l'errore come dire metodologico di quell'analisi costi benefici a parte gli errori di algebrici tra parentesi ok e che tu hai valutato qual è il traffico merci in quella tratta oggi ma non puoi sapere quale sarà il traffico merci in quella tratta fra 20 anni questo dicevamo che poi ci possa essere e sia accettabile addirittura auspicabile in alcuni casi l'intervento pubblico non ci piove le grandissime opere mi diverte il fatto che io a volte vengo tacciato come ordo liberista e altre volte come comunista questa è una cosa abbastanza sui social viene di tutto quando mi sono trovato a discutere qualche mese fa a proposito della questione che stavamo trattando prima dove io sto lavorando in questo settore è proprio della parte finanza cioè qual è il punto di equilibrio fra un un impianto a prescindere che sia un impianto di concerimento eccetera lì dicevo in un incontro dicevo che per essere efficiente produttivo e produrre soprattutto ricavi non soltanto costi fermo restando che è necessario farli quegli impianti ci vuole una grandissima concentrazione di capitale e non è facile trovare grande concentrazione di capitale cioè l'impiego di capitale in un impianto così grande è difficile da trovare da parte del privato e allora benvenga il pubblico io non ho delle 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 ok non era quello il senso non si faranno i siti benefici delle cose che ho detto non perché c'è sì sì due commenti veloci uno per dire quello che ha detto Costantino a me piace questa patricia 4 perché in un certo senso ti dice dove puoi andare più tranquillo che nel quadrante in alto a sinistra e dove devi fare più attenzione che nel quadrante in brazzo a destra il quadrante in brazzo a destra è Solindra e Tesla che anche lì non c'è nessun problema difatti se tu ti ricordi quando Solindra è fallita tutti hanno criticato l'amministrazione Obama dice hai buttato via dei soldi e questa è un'attitudine sbagliata perché il fatto che se tu decidi di fare una scommessa chiaramente ex ante non sai qualcuno può fallire e l'idea di lasciare fallire quelli che devono fallire è esattamente la cosa giusta a fare il problema è quando tiri questi soldi e poi l'azienda fallisce and you keep throwing good money after bad era solo un commento penso che questo siamo quasi tutti d'accordo assolutamente bisogna tenere in considerazione ad esempio politiche di ricerca come giustamente si ricordava prima politiche di ricerca e sviluppo nel senso ricerca primaria molte volte dove lo Stato può intervenire dove lo Stato interviene dove ci sono i fallimenti di mercato infatti nessuno dice di non intervenire laddove non c'è un fallimento di mercato anche l'esternalità è un fallimento di mercato ed è un analogico ma come intervieni è questo il punto a parte che su Alitalia ATEC tutti questi casi FS e vi dicendo a mio parere possono benissimo aziende che se non stanno sul mercato possono benissimo fallire perché ci sono altre alternative per il consumatore detto questo su alcuni settori dove ci sono i fallimenti di mercato credo che nessun economista serio possa dire che lo Stato non possa intervenire in qualche maniera come dice giustamente si riteneva anche prima il mio caso chiaramente a me riesce facile forse come dici te sparare sulla croce rossa o sono sfigato io scusate il termine a me capitano tutti i casi la croce rossa o zombie viventi come giustamente dicevi te e questo è il punto esatto no perché tanto non pagano queste aziende quindi in realtà io lavoro all'estero con aziende un po' più sane quindi in realtà a me sembra di aver detto l'esatto contrario cioè che anzi temevo che la mia relazione potesse essere scusate il contrario cioè del fatto che cercavo di spiegare perché in realtà a volte c'è l'intervento dello Stato può essere razionalizzato e non è solamente sulla base di falsi miti cioè di cose sbagliate ci sono delle ragioni nuove che possono spiegarlo e quindi c'è questa idea che lo Stato imprenditore specie nella difesa possa stimolare poi dopo attraverso queste commesse l'innovazione non so quanto sia generale questa è la teoria di Mariana Mazzucato lo Stato imprenditore serve la domanda le commesse sulla difesa poi danno origine a innovazioni che hanno degli spillover su altri settori la prima domanda è quanto è generale come diceva Ugo in realtà non abbiamo grandi analisi empiriche anche perché è difficile fare analisi empiriche buone in questo tipo di problemi l'altro problema appunto è quanto è specifico della difesa che è quindi una cosa molto forte negli Stati Uniti e quanto c'è altrove ma poi è anche ammesso in qualche modo che in alcuni casi sia utile lo Stato imprenditore ricordiamoci che noi veniamo dallo Stato in cui l'imprenditore era imprenditore di panettoni addirittura l'esempio tipico che abbiamo fatto abbiamo bisogno di panettoni di Stati io penso che su quello la risposta sia no voglio dire neanche probabilmente il pollo di Stati non so bene non sono esperto di pollame ma penso che non sia così allora il punto è esattamente dove uno può dire in settori in cui c'è alti spillover ma quali sono una volta che invochiamo questo bisogna definirle sono come quelli che dicono si scorporiamo dal calcolo del deficit gli investimenti ma esattamente quali sono quota 100 è un investimento ma sì forse sì il problema è quello come lo facciamo e questo mi sembra il vero problema la teoria è facile poi i dettagli diventano drammaticamente difficili un'ultima osservazione siamo passati Roderick passa dall'idea basta winner picking la politica non è quello a accompagnare alla porta i losers quindi mettiamo fuori il mercato di losers ma anche quello è drammaticamente difficile e all'Italia lo mostra cioè all'Italia chiaramente non sta in piedi ma riuscire a mettere fuori il mercato è difficile perché ci sono costi occupazionali ci sono insomma dei danni alla collettività e questo è drammaticamente difficile e ovviamente in questo momento di crisi è ancora più complicato e uno dice guarda che altrove in realtà le altre imprese noi andiamo fuori in mercato perché altre imprese hanno sussidi diventa ancora più complicato quindi in realtà a me sembra che certamente non corriamo il rischio di avere troppo poco intervento pubblico nei prossimi anni solo una precisazione mi ha fatto venire in mente un altro caso cioè quello dell'esplorazione spaziale barra messa in orbita dei satelliti da quando il mercato è stato aperto ad operatori privati tra cui lo stesso Elon Musk con la sua SpaceX o anche Jeff Bezos con la sua Blue Origin abbiamo visto che il costo medio per lanciare un chilogrammo o per lanciare per portare in orbita un chilogrammo di merce o che può essere un satellite è sceso di circa un fattore 10 NASA è quello che dicevo prima esattamente però aprendo al mercato la competizione è per il mercato non è che si danno i soldi direttamente a un dipartimento pubblico e quel dipartimento pubblico all'Italia for space mi porterà in orbita a dei costi esorbitanti o orbitanti un determinato cos'è è un processo di mercato così come scusate nel trasporto pubblico locale non è che io do direttamente un'azienda come succede ad oggi in ATM come succede nel servizio regionale dei treni do io come stato come regione un determinato servizio con determinati soldi senza nessuna gara in quel caso vai tramite gara e ti offrirà il miglior servizio l'azienda che ti offre magari il miglior servizio al costo inferiore processo di gara per il mercato in questo caso e non nel mercato concorrenza per il mercato e non nel mercato sia Fausto sia Ugo hanno toccato scusa sia Fausto sia Ugo hanno toccato il tema delle difficoltà di accesso delle piccole e medie imprese al credito a me pare questo sia un caso interessante perché è il tipico argomento dove c'è probabilmente un grano di verità ed è un argomento che è abbastanza utilizzabile ovunque nel mondo e che all'apparenza è particolarmente vero e particolarmente forte in Italia perché abbiamo una prevalenza dei PMI molto più alta che i paesi a noi comparabili la domanda però è perché abbiamo così tante PMI ancora una volta ci sono tante ragioni ma una parte della spiegazione è che ci sono tutta una serie di ostacoli alla crescita da un lato e disincentivi alla crescita dall'altro dove le facilitazioni nell'accesso al credito sono uno dei tanti disincentivi quindi questo è mi sembra un esempio da manuale parlando dell'Italia e probabilmente anche di altri paesi della vecchia battuta di Rega anche qui funziona molto bene cioè se si muove tassalo se continua a muoversi regolamentalo se smette di muoversi sussidialo salve complimenti per la sessione il convegno io penso che chi segue il canale chi era in NFA o insomma in questo tipo di contesto è difficile non essere d'accordo con quello che avete detto quindi la domanda è so what cioè come fai a fare qualcosa e la cosa che mi è venuta in mente mentre vi sentivo parlare era ma stando a quello che dite e stando al fatto che considerando anche la protezione del lavoratore non del posto di lavoro uno dice ma serve il ministero dello sviluppo economico oppure si potrebbe fare a meno di quel ministero e abolirlo se volete rispondere prima a Carlo no beh a questa voglio rispondere io perché io Gigino ce l'ho proprio qua cioè io io passo credo una buona metà del mio tempo trascorso sui social a pensare a Gigino cioè Gigino è veramente una mia ragione di vita da un anno a questa parte e la risposta è un'altra domanda come diceva giustamente Andrea ma serve il ministero dello sviluppo economico o serve un ministro come Gigino Di Maio perché il punto è quello allora in linea di masse io la funzione del MISE non la conosco cioè pur leggendo quotidianamente atti del MISE proposte del MISE eccetera eccetera visto che mi occupo anche professionalmente di quell'ambito lì non la conosco però immagino che una sua funzione possa anche trovarla quello che non ha realmente ragione di esistere è questa idea di cui stiamo parlando da mesi oramai che non riguarda soltanto la politica industriale ma guarda un pochino riguarda un pochino tutto il settore pubblico parapubblico intermediato dal pubblico che non si muova foglia non si possa fare nulla senza che non ci sia un'intermediazione appunto da parte di un organismo dello Stato il punto è questo ripeto dalle banche all'industria c'è sempre un'intermediazione di troppo e questa è una cosa che discende secondo me da una resistenza culturale che non riguarda che non 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 è soltanto dei nostri governanti perché poi molto spesso abbiamo detto sì questi sono il caso più eclatante il caso più estremo di surreale ignoranza ma che deriva da anni di storia l'Italia è grosso modo sempre stata così poi con dei con dei picchi in certi periodi oggi siamo probabilmente a un picco ma penso che sia veramente dovuto la mia cosa che fa paura e per la quale poi è nata l'idea di sviluppare il canale di far nascere il canale e svilupparla è che la gente che ascolta e che poi deve andare a votare non se ne renda conto anche perché c'è un tipo di informazione che certo certe informazioni o certe idee non la dà quindi il so what è continueremo a fare informazione nel miglior modo possibile che possiamo farlo compatibilmente con i nostri impegni lavorativi perché poi non facciamo questo per mestiere facendoci aiutare da persone come quelle che avete incontrato oggi nelle varie sezioni e come quelle che sono qui perché il deficit principale noi diciamo da tempo è quello neanche informativo perché c'è una valanga di informazioni che vengono date ma proprio culturale cioè chi legge chi si interessa alla cosa pubblica in generale alla politica o alla politeia come vogliamo chiamare così facciamo anche un richiamo che forse qualcuno coglierà esatto come filtra le informazioni la cosa che ci sta più a cuore è questa come vengono filtrate le informazioni come vengono filtrate prima che recepite questa è una cosa che ci spaventa moltissimo perché ripeto il problema non sono soltanto i nostri politicanti i nostri governanti i nostri rappresentanti sono soprattutto secondo me chi li ha messi in quelle posizioni di potere cioè noi che votiamo due risposte velocissime a Carlo una cosa che io penso ci possono essere parecchi motivi per cui queste politiche vengono messe in atto che non sono necessariamente quelle di aumentare la produttività Fausto ha parlato del bisogno di protezione magari io sono sono un po' bias perché sono cresciuto vendendo utensili a piccole aziende e questo mia sorella lo fa ancora quindi nessun bias contro le piccole aziende magari questo tessuto di piccole aziende crea anche capitale sociale crea tante cose l'unica cosa che uno dovrebbe capire perché uno fa le cose e ci potrebbero essere decine di motivi validi per fare certi interventi per fare certe cose per tenere il tessuto di queste micro imprese però è un po' strano quando dice la gente lo fa questo per aumentare la produttività questo è chiaramente una cagata e poi ma quello che dicevi tu esattamente a me piace l'esempio del barile perché è esattamente questo l'unintended consequence delle politiche e in risposta alla tua domanda di nuovo è quello so what a me piacerebbe appunto avere cercare di uno può decidere di fare qualsiasi politica ma capire di più a cosa servono queste politiche poi uno in un sistema democratico può decidere però non che la gente ti venda politiche che servono a tutta altra cosa rispondo al so what è chiaro che per ogni singolo settore per ogni singolo caso secondo me c'è una risposta specifica è chiaro che non è facile da implementare da un punto di vista politico però io non credo che su All'Italia le persone siano ancora contente di metterci soldi pubblici questo non so se è mio bias perché guardando in giro sembra molto molto difficile su Atac è andata diversamente Atac ha votato nemmeno il 20% però faccio sempre un esempio su questo perché non è andata a votare la gente parte che immaginavo che non si raggiungesse il quorum del 33% ma perché perché semplicemente se voi prendete le persone che utilizzano i mezzi pubblici a Roma non è come a Milano dove il 50% lo utilizzano o a Parigi il 65-66% lo utilizzano a Roma quella percentuale è molto più bassa a Roma quella percentuale probabilmente è il 30-35% quanti di quelli pagano il biglietto beh probabilmente un 60% quanto è il 60% di un 30% un 18% quanti hanno votato sia il referendum più o meno il 18% è molto semplice allora forse una delle cose è proprio l'indifferenza che poi è molto secondo me molto italiano come bias da questo punto di vista che significa non informarsi ma anche non aver voglia di andare a muoversi e questa iniziativa dal mio punto di vista è qualcosa che va esattamente nel senso opposto quando vedo qua 600 persone quelle che sono è esattamente qualcosa che va nella direzione opposta 15.000 persone su YouTube quindi il suo what secondo me è dare risposte convincenti e cercare di capire quali sono quelle fattibili anche politicamente cercando di continuare a informare un secondo rispondo velocemente anche perché ho poco da aggiungere a quello che hanno detto Ugo e Andrea Carlo mette l'accento sulla cosa importante in realtà quando diciamo in Italia certi aiuti per il credito delle piccole e medie imprese sono particolarmente importanti perché con tante piccole e medie imprese la domanda è perché ce le abbiamo e ad esempio nel libro di Tirol di cui sbagliati il titolo colpevolmente c'è appunto la discussione del fatto di rimuovere l'effetto soglia quello che impedisce le varie distorsioni che impediscono alle piccole imprese di diventare grandi quindi quella è una buona politica industriale dice Tirol togliamo questo effetto soglia a quel punto forse anche questa domanda svanisce la domanda invece no no sono dieci secondi prometto non ne prendo di più alla domanda appunto del so what Ugo ha detto molto bene in realtà non c'è solo l'efficienza dobbiamo smettere di pensare con questo criterio per cui dobbiamo votare e decidere solo sulla base dell'efficienza non tutti quanti la pensano così ci possono essere varie ragioni perché certe decisioni vengono prese la protezione il mantenimento del capitale sociale e quindi queste cose vanno rispettate la cosa importante lo dicevo nell'ultimo luce è che rendere il trade off il più chiaro possibile questo è il nostro compito oggi credo se qualcosa possono fare gli economisti oggi non è dire che cosa occorre fare quello si è presuntuoso è controproducente veniamo presi come arroganti ma dobbiamo cercare di mettere in luce che ci sono dei trade off c'è in realtà in questo momento una narrazione economica che io chiamo il bengodismo cioè sostanzialmente non ci sono dei trade off quali sono gli unici concetti che alla fine di cui si parla nel debattito pubblico il moltiplicatore chinesiano altissimo spendi un euro ne ottieni dieci ne ottieni la curva di Luffer riduce l'età le aliquote aumenti il gettito questo è veramente bengodismo cioè l'idea che siamo nel prese di bengodi per cui può avere tutto quanto questa è una puttanata e se noi riusciamo a far capire questo fatto è quello che possiamo e dobbiamo fare oggi quindi qual è il so what bisogna combattere il bengodismo imperante che è veramente oramai è diventata l'unica narrazione che sentiamo dai nostri pubblici questa è la da destra e da sinistra niente di più e niente di meno questo è quello che possiamo e dobbiamo fare è interessante la ricostruzione ma come dire io che sono anzianotto anziché non ricordo due esempi che io avrei fatto e che in qualche modo ricordano come dire i fasti dell'intervento pubblico e sono due esempi uno piccolino e un altro un po' più grande il primo esempio è quello qualcuno forse lo ricorderà della GEPI allora esisteva un ente di intervento statale il quale si poneva come obiettivo quello di intervenire nel capitale delle imprese in difficoltà mantenere una posizione di minoranza all'interno di queste imprese e poi andarsene via una volta che le imprese si fossero risanate quante imprese si risanarono zero ma questo non per qualche particolare motivo perché l'imprenditore che aveva un socio di minoranza passivo che lo finanziava non aveva nessun interesse a che il socio passivo pubblico come dire uscisse fuori dal suo azionariato e questo è l'esempio minimo l'esempio maggiore è quello dell'Efim l'Efim per avere un ordine di ingrandezza nacque nel 62 e fallì nel 92 nel 92 aveva la bellezza di 18 mila miliardi di lire allora si misurava ancora i lire e quel debito talmente grande fu quello che causò poi esattamente la crisi del 92 quello che portò al declassamento dei titoli italiani a quello che poi impose sostanzialmente quello che venne fuori poi è che nel 92 si decise di scioglierlo le imprese vennero totalmente liquidate come passaggio complessivo nel 2007 nel 2007 allora quando ricordare l'esempio di questi due zombie perché non saprei come altro definire che però minacciano di ritornare con le politiche che sento e che giare oggi a me fanno venire onestamente un bel brivido lungo la schiena il famoso incentivo a restare piccoli il famoso incentivo a restare inefficienti se tu sostieni l'azienda che non funziona quella lì che interesse ha a cominciare a funzionare buongiorno giusto due o tre considerazioni la prima cosa sul sowot siamo in pochi sul canale siamo 14.000 15.000 potremmo crescere ancora la butto lì in Italia si possono fare le proposte di legge raccogliendo qualche decina di migliaia di firme che è una cosa che certo se dovessimo riuscire non avrà non verrà seguito dal Parlamento però può avere già un piccolo impatto poi altre due cose che forse non sono state ricordate sull'interventismo statale della politica industriale nel cercare di mantenere aperte aziende che ormai sono marce dietro anzi vicino a queste aziende talvolta ce ne sono altre che sono vive che stanno crescendo che hanno dipendenti che stanno bene che hanno know-how che non possono crescere finché i cadaveri restano senza considerare il fatto che un servizio che viene dato in un mercato efficiente costa meno e quindi l'utente finale ne gode l'ultimissima cosa sulle PMI io ho una PMI se non ricordo male mediamente il numero di addetti delle PMI italiane è 3,9 sono troppo pochi cioè siamo in un mondo che sta diventando sempre più difficile la difficoltà nell'accedere al credito è data anche dalla scarsa preparazione perché uno non può stare sul tornio gestire l'ufficio e avere la preparazione finanziaria devono crescere ma finché noi imprenditori non capiamo questa cosa che dobbiamo unirci e dobbiamo fare massa critica e finché cerchiamo sempre di ricordarci che negli anni 70 in 4 si facevano i soldi non ce n'è il mondo attorno a noi è cambiato siamo noi che pensiamo di restare diversi e vogliamo difendere quello che eravamo negli anni 70 80 ancora sul sowot una cosa semplicissima a questa tengo abbiamo già risposto credo sul sowot colgo però il tuo invito o meglio tu mi ricordi una cosa che abbiamo intenzione di fare ovvero prima ho citato l'esempio di un gruppo parlamentare che mi ha chiesto un aiuto lo step successivo rispetto a quello di fare corretta informazione è quello di mettere a disposizione di chi coraggiosamente volesse fare politiche diverse le competenze che sono a questi tavoli non la mia quella di Andrea quella di Ugo quella di Fausto quella degli altri relatori che ci sono stati perché abbiamo avuto il coraggio ma anche la fortuna di avere amici che hanno sposato l'idea probabilmente anche loro per disperazione così come noi che quando abbiamo cominciato eravamo veramente disperati nell'altro senso ho ricordato che c'è un gruppo Facebook che si chiama Economisti Incazzati cioè Incazzati infatti la nostra mossa è una mossa di isperazione cioè non ce la facciamo più per cui se dovesse essere possibile sembra che sarà possibile quello che tu dici di presentare proposte di legge piuttosto che dare dei suggerimenti fermo restando che il trade off di un politico quando si raccontano le cose come stanno non è proprio ok perché il politico si deve ricordare cioè ha sempre un pensiero ma poi mi riconferma no? però ci proviamo insomma dei primi segnali in questo senso stanno arrivando il canale è vero oggi ha 15.000 iscritti però direi che quello che stiamo trasmettendo piace abbastanza il numero di insulti che riceviamo è ancora molto trascurabile speriamo cresca perché vorrà dire che esatto qualcuno comincia a dire ah però sui social su Twitter ma questi chi sono ma da dove rirono benissimo insultateci pure lamentatevi per quello che diciamo accusateci di essere quegli sporchi liberisti sorosiani che non siamo perché va benissimo perché vuol dire che se ne parla perché se l'obiettivo primario è quello di sviluppare le coscienze oppure di fare resistenza intellettuale e culturale così come abbiamo dichiarato tante volte benvenga la visibilità in qualunque modo arrivi intanto un grazie per questa giornata devo dire utilissima molto interessante quindi complimenti a tutti voi credo che insomma io partecipo a tre tavoli fisco e un altro devo dire molto molto utile ma per Andrea due questioni io da romana ho vissuto il referendum sul lato che mi sono anche battuta per il referendum sul lato nelle forme e nei modi che sono i social oramai in realtà io non credo che ci sia indifferenza dei romani i romani soffrono tantissimo sia l'AMA che l'ATAC il problema è che sono ignoranti un tema principale tra liberalizzazione e privatizzazione cioè noi ci portiamo dietro un retaggio storico per cui quando dici mettiamo a gara un servizio lo stai cedendo perdendo regalando al privato che ci lucrerà sopra e quindi ti corromperà il servizio pubblico e tu alla fine stai perdendo controllo su un servizio di interesse generale quindi credo che alla fine il problema a Roma principalmente che abbiamo vissuto vent'anni di uno schifo direi gestionale di tutte le società pubbliche non solo di ATAC ma di AMA di quelle culturali cioè della CEA noi ci portiamo dietro una città che è a pezzi da un punto di vista del rapporto tra impresa servizi pubblici e politica chiama in ballo in realtà una responsabilità enorme che è delle classi dirigenti che negli ultimi vent'anni hanno fatto in modo che la fiducia nel rapporto di fiducia tra il cittadino e quindi tra l'elettore e il decisore pubblico fosse completamente perdente fosse oramai depauperato di ogni significato in realtà è anche quello che succede con l'Italia per certi aspetti no? cioè tu oggi dovresti fare una cura dolorosissima il giorno uno in cui vieni eletto ti accolli quei lavoratori che devi licenziare riduci il costo questa è una cosa che a tutti gli appuntamenti elettorali non abbiamo fatto cioè da ultimo nel passaggio Gentiloni governo Neandertal noi ci siamo trovati in una situazione folle tale per cui gli dicevi ragazzi ma perché non la vendete ce l'avete gli offerenti perché eh però chi se la prende la responsabilità di andare poi al voto il 4 marzo senza avere avendo venduto all'Italia avendo mandato a casa le persone allora il tema vero che dalla fine questi anni di scelte più o meno sbagliate sulle piccole e medie imprese perché se ne potrebbe insomma io un po' per lavoro queste cose le ho viste da dentro no? cioè tutte le l'imprenditore ti chiede sempre l'incentivo ma il problema non è che lui lo chieda il problema è che tu glielo dia e che glielo dia in quel modo è che tutte le leggi di bilancio comincino con proroga dei termini proroga dell'incentivo questa è una roba che non è che è sbagliata perché tu non hai è perché gli stai facendo credere che questa è l'unica risposta che gli puoi dare e allora la qualità del decisore pubblico che è abbastanza uno schifezzo adesso cioè lo è con questi ma non era meglio prima non è mai stato sono gli ultimi vent'anni che è così almeno se non di più per quanto io abbia memoria quindi mi chiedo anche come gestiamo il problema a qualità della classe dirigente che è forse il vero problema che ci dobbiamo porre cioè chi mandiamo a fare cosa è il problema del consenso che devono avere queste persone perché per fare queste scelte dolorose devi avere consenso almeno in un momento ce lo devi avere cioè se no fai solamente come ha fatto la Fornero che però era un governo tecnico non era un governo politico allora se noi crediamo in un assetto democratico istituzionale che funziona con certe regole come si costruisce il consenso chiamando le persone a sostenerti quando fai delle scelte così dure perché anche ATAC è una scelta dura mandare 11.000 persone a casa vuol dire 11.000 persone che si chiamano le famiglie cioè il 2021 la raggi questo problema se lo dovrà porre ma se lo dovrà porre pure chi si verrà candidato per il PD per il PC per il PIP non so che cosa cioè tutti noi avremo questo problema e allora la risposta io ancora devo dire c'è un punto interrogativo su come si può gestire cioè non la vedo nel breve e non so a parte l'armageddon non credo che ci siano altre soluzioni a me note quindi vi invito anche a ragionare su questo per ottobre io avevo solo una considerazione che forse ci si dimentica che in questo tentativo di salvare questo paese dal destino che sembra in fausto c'è un piccolo nemico di cui ci dimentichiamo perché la politica industriale e tutte le policy in Italia tra l'altro c'è anche un impatto su quella del credito alle piccole imprese perché il credito alle piccole imprese in un paese in cui il 95% del credito è bancario e anche il fatto che se io straregolo le banche alle piccole imprese non arriva nulla allora glielo do perché sto facendo qualcosa di restrittivo da un'altra parte è sempre incrementale in pratica c'è un'enorme cipolla che cresce una foglia alla volta non c'è mai stato un intervento in cui si è tolto un pezzo di policy perché si è visto che non funzionava si è sempre aggiunto un pezzo di policy per correggere un altro pezzo con effetti secondari che poi in termini di complessità vanno al cubo delle dimensioni che si aggiungono in questo purtroppo però abbiamo un nemico di cui non abbiamo parlato l'Unione Europea perché anche lei opera in questo modo e questo è un problema che non è così banale da risolvere perché io ritengo che ci sarà tra le persone che sono qui l'idea di aver avuto successo quando vedremo di aver tolto un pezzo di quello che è stato dannoso non aggiunto un pezzo per correggerlo un altro anche se è disegnato da voi o da qualcuno che ha le competenze perché comunque gli effetti secondari scappano per strada solo su questo ad oggi il grande malato d'Europa è l'Italia l'unico malato d'Europa quindi dare dal mio punto di vista poi qua immagino che ci siano migliaia di punti di vista diversi su questo punto è dare la colpa all'Unione Europea come è stato no capito la stratificazione tu intendi uno magari erroneamente pensa uno magari erroneamente pensa di avere un alleato a monte perché siamo il grande malato e siamo un problema anche per loro quanto loro sono disposti a cambiare una modalità operativa che è quella per cui stamattina Cappato dice portiamo il costo del carbone a 50 euro quando è 5 e tutti voi avete fatto lo stesso sguardo che ho fatto io ho detto oddio fuggono tutti giusto? ce lo possiamo dire fuggono tutti cioè praticamente chi di voi ha pensato meno di meno 10 di Pili in tre anni mi stupisce permetti un attimo perché io su questo su questa cosa sono impegnato da alcuni mesi qualcuno sa probabilmente che io ho fatto un mi sono iscritto a più Europa Cappato e qui oltre che per ragioni di amicizia anche perché abbiamo cercato di individuare un percorso in cui c'è una persona che fa politica guardate che era l'unico politico oggi presente non è un caso come boh non mi va eh vabbè sì una cosa un po' diversa rispetto per quale motivo perché Marco ha un grandissimo vantaggio che è quello di saper ascoltare e di sapere come si sposta da qui a qui questo bicchiere e dire io so spostare il bicchiere non so spostare la tazzina mi aiutate a farlo allora nell'ambio su quel tema specifico è quello della carbon tax anche su altre di la vita tanto è vero che noi una piattaforma come dire economica per quella per quella sua corsa la segreteria per Europa le abbiamo presentate ed elaborate poi siamo fermati perché evidentemente la segreteria non l'ha vinta e lasciamo stare come però vogliamo essere noi da supporto a chi ha delle deve avere un'unica caratteristica almeno la principale caratteristica è essere una persona seria e per bene ok se viene una persona seria e per bene disposta ad ascoltare me Michele Gianluca Thomas Ugo Andrea Fausto e tutti quanti gli altri ok noi siamo disponibili a dare una mano Marco questa dimostrazione di serietà l'ha data poi è evidente che lui dica quella roba lì ma è altrettanto evidente che è una follia in termini quantitativi è evidente Michele ha annunciato in uno dei video che ha fatto a proposito dell'ambientalismo che comincerà a lavorare seriamente su un discorso carbon tax per trovare da un punto di vista proprio specifico matematico econometrico il punto di equilibrio e se lo dice lo farà quando sarà fatto potrà essere Marco Cappato piuttosto che un'altra persona piuttosto che un altro gruppo di interesse quei lavori saranno a disposizione il compito che noi immaginiamo per questo grande gruppo allargato che vogliamo ulteriormente allargare è esattamente questo perché oggi Marco può dire 50 euro domani alla prossima puntata non potrà dire 50 euro magari potrà dire 10 5 o 4 e soprattutto come viene compensata quella roba lì ok ho capito benissimo il tuo punto scusa che non l'avevo capito prima assolutamente assolutamente d'accordo con quanto dici il problema è capire se l'Unione Europea se gli altri stati membri dell'Unione Europea vogliano prima o poi salvare l'Italia se mai si presenterà questo è l'interesse come dici te sì non solo procedura di debito eccessione nel senso proprio capire come andrà l'economia e qua non voglio fare assolutamente previsioni però è chiaro che io vivo all'estero da tanti anni e sono sempre in giro la pazienza nei confronti dell'Italia non me ne sembra che a livello europeo ce ne sia ormai più tanta cioè qua si crede di poter fare i galli quando in realtà siamo polli tornando sull'industria strategica di prima posso fare l'ultima scusami Costantino allora riallacciandomi a chi parlava di Armageddon scordiamo ricordiamoci la storia recente le riforme tributarie vere le ultime vere riforme tributarie noi le abbiamo fatte tra il 73 e il 79 nel 73 è entrato in vigore quello che è il primo testo unico sulle imposte sui redditi prima del 917 e del 86 perché noi citiamo quello ma è il restyling dell'IRPEF il primo decreto sull'IRPEF istitutivo in quegli anni c'era di tutto dal 72 al 74 abbiamo fatto impostare di bollo ci siamo inventati ogni tipo di cosa da lì c'è l'IVA e c'erano 32 aliquote con l'IRPEF la più alta aveva 72% di prelievo l'unità impositiva nell'istitutivo dell'IRPEF era la famiglia noi dobbiamo ringraziare una volta tanto la corte costituzionale che nel giro di neanche due anni cannò questa porcata perché era stabilita su un'iper progressività del cumulo dei reti familiari quindi a fianco a Carlo la ragazza che non conosco Eleonora ha detto giustamente aspettiamo l'armageddon dieci giorni un anno un anno e mezzo noi dovremmo e saremo obbligati a rispettare i saldi quello che l'unione ci chiede da sempre non gliene frega nulla con lui abbiamo parlato tante volte del fatto che purtroppo hanno tollerato le deroghe a favore dei vari Berlusconi Renzi tutti perché le deroghe sono split payment che stiamo anticipando liquidità l'iper ammortamento e spese in prestito al futuro perché io non ho il vincolo il 4.4 del testo unico degli orientamenti in materia di aiuti di stato esiste dal 96 che io ricordo a memoria ricordo a Gazzetta Uffici che è un auguri del 98 non sono considerati agevolabili gli investimenti di mera sostituzione nuovi ma se faccio investimenti e non ho i soldi ho le pezze in culo io i soldi che spendo oggi domani non ce li ho dopodomani non ce li ho l'armageddon è il meteorite che tutti noi stiamo aspettando perché tanto dall'interno siamo in 15.000 o ne troviamo almeno un altro milione e mezzo di qui un anno o arriva il meteorite split payment da una parte anticipazioni dall'altra reverse charge il robinut tax che hanno detto ma fino al 2000 e qua non ti diamo i soldi l'avviso abbonario sprint per anticiparti la spesa sono tutti prima riscuotevano con due anni di ritardo adesso negli ultimi 24 mesi ci siamo ciulati scusate il termine i soldi dei due anni dopo di quelle attuali hanno fatto la tassazione per condono Cristo mio l'anticipo 106% dell'IRPEF ricordo bene abbiamo fatto al 120 ci sono stati acconti allora l'acconto è nato per dire anche hanno fatto la faccia tosta l'addizionale comunale è nata con un acconto del 30% se io faccio un acconto qualunque tipo di acconto sia mi pago nell'anno il 100% 40 all'inizio ma non è che ti dicono adesso il 40% perché ti vogliono bene no perché di più non ce la fai ciccio mio perché ti pagare il saldo dell'anno prima il primo acconto il 40% ti paghi quello lì va di acconto di base all'88% se lo fai col metodo storico o l'altro se te lo fai col metodo attuale con le fatture fino all'anno fino al 20 di dicembre il 100% lo Stato si sta spendendo quello che non ha congenitamente da anni gli ultimi due anni hanno esasperato questo siamo arrivati col meteorite sulla testa perché chi c'era prima 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 che tanto diceva quando li si criticava mi è servito il suo piatto d'argento il figlio la moglie il cane il gatto e la sua testa tutta spesa rubata anticipata dal futuro se io spendo prendo il bmw a prestito e faccio il debito lo devo pagare questi no non lo pagano bene con queste parole pregno di ottimismo no grazie Alessio sei prezioso davvero si combatte contro questa roba qui sapendo che probabilmente è una battaglia romantica e poco più però pensiamo anche che sia necessaria farla allora poiché siamo alle conclusioni questo è l'ultimo sì sono 18 e 10 concludiamo intanto vorrei ringraziare tutti i nostri esperti che hanno accettato di venire vorrei ringraziare lo staff e tanti ragazzi che sono offerti per dare una mano vorrei ringraziare voi che siete venuti ad ascoltarci e che avete sopportato anche delle spese per farlo ma se non lo facevate difficilmente avremmo vissuto una giornata e anche quella di domani perché domani ci sono delle sorprese domani ci sono sono belle già stasera c'è bella roba ma domani anche qualche sorpresa perché poi abbiamo deciso di farla su due giorni perché è necessario il momento di approfondimento su dei temi che ritiravano sensibili però c'è bisogno anche e ci veniva richiesto il momento in cui facciamo una replica di quelle chiacchierate e poi con delle persone nuove che vi presenteremo domani quindi ringrazio veramente tutti quanti penso che sia stato interessante l'auspicio che io faccio è che di questa cosa si parli e che voi ne parliate perché come dicevo l'obiettivo massimo a cui oggi possiamo aspirare è quello che questa voce di verità permettetemi di dirlo arrivi nel dovunque possibile grazie a tutti grazie a tutti